Continuiamo con alcuni particolari sui parametri delle funzioni. Diamo un'occhiata più da vicino a questa funzione insomma. È stata implementata in modo tale che possa accettare un numero variabile di argomenti. Lo vediamo nella prima chiamata dove addirittura sono 0, poi 1, somma 1, 2, 10, 20 e addirittura 7 nell'ultima evocazione. JavaScript mette a disposizione due modi per ottenere questo. Il primo è un po' meno moderno e potendo scegliere, non dovendo cioè lavorare su codice pregresso, lo eviterei andandogli a preferire il secondo modo. Ma io questo primo modo ve lo propongo comunque perché c'è tanto codice ancora a disposizione e valido su internet che invece lo sfrutta. Questo primo metodo utilizza un oggetto chiamato arguments che è un elenco, tecnicamente corretto il termine sarebbe un array in questo caso, di valori. E vi ricordo qui il minimo indispensabile per capire cosa sia un array è un contenitore di valori multipli e più avanti li vedremo in dettaglio. Come questo un array che contiene 18, 24, ciao, meno 45 e 100. Per andare a lavorare con questi singoli valori si indica la loro posizione, un indice che parte da 0. Il 18 allora corrisponde a un array in posizione 0, un array di 0 si dice. Ciao, la stringa contate da sinistra 0, 1, 2 è l'elemento un array 2. Chiaramente è molto importante poter sapere anche quanti sono gli elementi contenuti in un certo momento in un array. Possiamo fare riferimento alla property e alla proprietà length. Un array punto length fornirebbe il valore 5. Ogni funzione, anche se apprendemente non ha parametri, ne ha sempre uno in più invisibile che è appunto arguments. Perché volendo essere tecnicamente perfetti, precisi, non potremmo definire proprio un array. Ma per quello che ci interessa è come se lo fosse. Si fa utilizzare sostanzialmente come un array, contenente in automatico tutti i parametri eventualmente indicati. Se non ne indichiamo neanche uno, questo array non avrà elementi. Il suo length sarà 0, che è sempre a disposizione di una funzione e contiene appunto la lista dei parametri che le sono stati passati. Nella prima invocazione di somma, quella senza parametri, allora arguments corrisponderà diciamo all'array vuoto e il suo length sarà 0. Con la seconda invocazione, somma di 1, l'array arguments sarà composto soltanto da quel valore e la lunghezza di arguments sarà 1. Con la terza invocazione, arguments conterrà 10 e 20, la lunghezza 2. Nell'ultima invocazione, arguments conterrà l'elenco dei numeri da 1 a 7 e la lunghezza sarà ovviamente 7. La funzione somma utilizza un ciclo for per ciclare dal primo elemento di arguments, i uguale a 0, fino all'argomento length meno 1, cioè i minore di length, e accumula ciascun argument di i nella variabile totale. Ricapituliamo ancora una volta quello che succede mettendo fianco a fianco le chiamate a somma e il codice di somma. La prima volta il length è 0, per cui il ciclo for non partirà neppure, il valore della variabile totale rimarrà 0. Con somma di 1 il length è 1, il ciclo for farà un solo ciclo, andrà ad aggiungere a totale arguments di 0 e poi si fermerà. Con 10 e 20 il length è 2, il for considerà gli indici 0 e 1 e li aggiungerà al totale. Nell'ultima invocazione il length è 7, il ciclo for ciclerà da posizione 0 a posizione 6, più uguale argument 0, poi più uguale arguments 1, più uguale, puntini puntini, fino a più uguale arguments 6. Eseguendo avremo proprio stampati questi risultati. 0, 1, 30 e 28. E vediamo in una situazione abbastanza simile come invece ottenere lo stesso risultato di funzione che si adatta al numero dei suoi parametri usando il secondo modo, quello più moderno, i parametri rest. E qui si tratterà davvero di un array e questo comporta dei vantaggi, significa che su quei parametri rest potremo sfruttare tutto il supporto previsto per gli array. I parametri rest sinteticamente sono introdotti così. Questa funzione servirà a calcolare il prodotto dei suoi parametri, ovviamente dovranno essere dei numeri. A differenza di arguments che non si vede, qua in modo esplicito, è tutto sommato anche chiaro, quello che stiamo facendo più chiaro, secondo me, attribuiamo all'array dei parametri un identificatore, questo parametri. Deve essere preceduto a livello di sintassi da questi tre punti, quindi punto, 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 parametri, tutti insieme, sono i parametri rest. In parametri 0 ci finirà, se lo metteremo, il primo parametro con cui chiameremo prodotto, in parametri 1 il secondo parametro con cui chiameremo eventualmente prodotto, e così via. L'utilizzo di questo array è identico a quello che abbiamo fatto prima con arguments, ciclo for, parametri di i, occhio che poi nell'utilizzo non si mettono più puntini. I puntini servono perché così l'interprete javascript può capire che c'è differenza tra un semplice parametro, chiamato parametri, e invece un parametri che deve essere gestito in modo completamente diverso. Dopo aver assegnato 1 al risultato, andiamo ogni volta a moltiplicare per il parametri di i. Richiamando allora la funzione con questi parametri, ce li ritroveremo sotto forma di array in parametri, parametri di 0 sarà questo 2, parametri di 1 il 3, parametri di 2 il 45, parametri di 3 il 100. E l'esecuzione dello script porterà al valore 27.000. Lasciamo soltanto il 2 il 3 per ottenere naturalmente 6, proviamo anche senza parametri, probabilmente sarebbe meglio vedere 0, è un attimo, andate ad aggiungere un if sul length, quando vedete che è 0, allora fate restituire 0, così. E' anche possibile, ma sempre lasciando la parte rest variabile per ultima, aggiungere dei parametri tradizionali con un identificatore. Diciamo che vogliamo fornire un parametro che escluda certi numeri dalla produttoria, potremmo indicare quel valore con questo parametro escludi. E nel ciclo for andare a controllare se il diesimo parametro è diverso dal quale escludi, solo allora andremo a moltiplicare per quel valore. Si potrebbe obiettare, ma non ce n'è bisogno, basta mettersi d'accordo, facciamo che sia il primo parametro che svolge lo stesso ruolo, cioè, qui si parte da 1, il primo parametro è il valore da escludere, e andiamo a controllare che il parametro di i sia diverso sempre dallo stesso parametro 0. Si, tecnicamente svolgerebbe lo stesso calcolo, ma sarebbe meno chiaro. Senza un commento, sarebbe difficile capire che il primo dei parametri in realtà non è compreso nella produttoria, ma è utilizzato per escludere alcuni valori dalla produttoria. Con questo parametro esplicito, che tanto dovrà sempre essere specificato, chiusa la funzione, si vede da questa, dalla lista dei parametri, subito comunicare, grande come una casa. Guarda che c'è questo primo parametro che ha un significato particolare, poi gli altri valori con i quali calcolare la produttoria. È molto meglio così. E siccome gli altri valori non hanno un significato particolare, e possono essere in numero variabile, li raggruppiamo sotto forma di un parametro REST. Altri vantaggi, accennavo prima, sono legati al fatto che i parametri REST sono in modo naturale un array, e per poter sfruttare i vari comandi, metodi, di cui beneficiano gli array, qui non dobbiamo fare nulla. Se usassimo invece arguments, dovremmo prima convertire arguments nell'array contenente i suoi stessi elementi, e poi lavorare su quello. E questo, soprattutto se la funzione fosse richiamata tante volte in un ciclo, porterebbe ad un caldo di prestazioni potenzialmente apprezzabile. A risentirci.